Siamo alla prima sfida dei play-off, Golden Army ci ci concilio, i due Super Bomber, Celari Marco e Cartagoian. Allora Marco, come siamo messi stasera? No, siamo messi molto bene, la squadra è al completo, tutta quella che ha giocato nell'arco di tutto il campionato, noi li conosciamo, li abbiamo intravisti nell'ultima partita ma sono onesto, non è che abbiamo intravisto molto, quindi noi giochiamo al massimo delle nostre possibilità sperando che basti. Direi un'annata più che positiva per voi al primo anno con il campionato Sportland? Un'annata straordinaria, primo anno che giochiamo insieme, primo anno che facciamo la Sportland, ci eravamo promessi play-off, arrivare primi nel girone, passare gli ottavi con una squadra che ci avevano parlato molto bene, è arrivata terza nel girone della Grande Piazza, per adesso buon risultato. Voi invece ormai collaudati nel nostro campionato, anche l'anno scorso? Più o meno, anche quest'anno finalmente siamo come al solito ai play-off, speriamo sempre di ripetere il secondo anno che siamo andati in finale, noi ci proviamo sempre. Anche quest'anno capocannoniere? Sì, me la gioco sempre con il mio compagno Alessandro, ma a me sinceramente l'importante è che vince la squadra, poi i gol. Un'opinione sugli avversari di stasera o non li conosci? Io non li ho visti, sono andato tardissimo, l'ho visto solo i rigori, hanno vinto i rigori, per cui comunque squadra nuova, non li sottovaluteremo per niente. Ok, buona partita. Grazie. Fabio rientra, Fabio lo prendi te. Guarda, 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 questo ti arriva. Poi a posto, qua. Dentro, avanti scena. Non che non va, non che non va, non che non va tu giro dentro. Aspetta, no, Davide ferma. Dietro, dietro, dietro uno. Mi piuttosto che entri tu, lo devi sapere. Amore. Ragazzi, venga. Spendi la porta. Va bene, va bene. Vieni, 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 vieni. Fuori, fuori. Dietro, Marco. Coppa e coppa. Non più, non più. Caracci, subito reattivo, cara. Vieni, 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 vieni. Sì. Vieni, vieni, uno. Si copri. Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, cambiamo. Non è che quello di la setta vuolo rimane senza, eh. non è che mi interessi più di tanto non è che non va, non è che non batto giro dentro non è che non batto giro dentro aspetalo cara, aspetalo cara aspetalo aspetalo aspetalo